Siamo in diretta Pasquale. Ciao Marco, ciao prof, come stai? Ciao, bene, molto bene. Che bello, averti sui nostri canali, come diceva il buon Pippo Baudo, è sempre lungi da me volermi confrontare, è paragonare a lui, però insomma, confrontarsi con te sulle tematiche di intelligenza artificiale è sempre bello. Poi questa volta abbiamo proprio il format giusto per te, vero? Calzato a pennello, perché oggi parliamo di formazione, università, tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale in questo ambito, quindi. Professor Marco Gori, che piacere. Allora, Marco, per chi non ti conoscesse, oltre ad essere calciatore per Wikipedia, insomma, questa è la battuta stamattina, sei un ottimo calciatore giocato nell'Empodi, nella battipaglia, insomma, un sacco di squadre, a un certo punto della tua carriera calcistica hai deciso di dedicarti alla formazione. Che è successo? Sì, ma è un po' quello che effettivamente anche con i miei amici di infanzia a volte narro, perché quando hanno visto questa cosa appunto in rete, naturalmente sono venuto a parlarmi del mio passato calcistico. Io ho sempre detto loro, anche prima di questo evento, che ho due strade nella mia vita. Uno era studiare, dedicarmi allo studio, alla curiosità, alla ricerca scientifica, all'insegnamento. E l'altra era di fare il calciatore, proprio perché quando si è bambini e si hanno tutte queste abilità, il dribbling, questi tiri ad effetto, ecco, questa cosa, naturalmente, sono le due anime. E quando parlo con loro di questo, di solito poi c'è un sapiente silenzio, e poi qualcuno mi dice, meno male che è andata così, nel senso che... Davvero, lo dico anch'io, guarda, lo dico anch'io, perché sapevo, infatti, infatti. Questo appunto, forse vuol dire che non ero proprio un grande calciatore da bambino, però... Allora, a Siena, Marco, per chi non ti conoscesse, hai la cattedra presso l'Università di Siena, insegno ormai da un po' di anni, e hai il privilegio di aver conosciuto le menti più brillanti, e di aver studiato con loro, e di far parte delle menti più brillanti, secondo il nostro modesto parere a livello mondiale. Anche su Marte mi hanno detto che si inizia a parlare di te e dei vostri lavori. E tra l'altro avete scritto un libro recentemente, che è La Guida per Umani, quindi tutto lascia pensare al fatto che sono marziani. Ma tu dici, eh? Che dici? Il libro, questo è un libricino appunto scritto con l'idea che appunto l'intelligenza artificiale, che chiaramente non è un libro accademico, scriviamo i libri accademici, ma sono altra cosa, riguardano appunto la formazione di chi fa computer science e engineering, però sarebbe un gravissimo errore pensare che l'esigenza di conoscenza si debba concentrare sugli aspetti di engineering e computer science. Di certo questo è cruciale, è baricentrico, ma c'è una grande quantità di cose che serve conoscere, credo, al cittadino, al cittadino libero soprattutto, al cittadino che ha bisogno di farsi la propria idea del mondo in cui viviamo. La propria, non quella che altri vogliono appunto proporgli. E allora un modo mi è parso assieme ad una persona che ho avuto il privilegio di conoscere, si chiama Marco Landi, è un giornalista, Nicola Di Turi, abbiamo scritto un libricino che è consegnato al cittadino, cioè è consegnato a colui che appunto ha un po' l'ambizione di farsi la propria idea di che cos'è questo mondo. Bene, perché questo è un mondo particolare, insomma, anche noi nel nostro piccolo stiamo cercando di portare il messaggio al maggior numero di persone. L'obiettivo di questa diretta, lo ricordiamo, che è realizzata in collaborazione con Ateneo Impresa e di Artificial Intelligence School è quello di parlare proprio di formazione e lo faremo con te che, insomma, di questo ne fai il tuo mestiere. Cosa sta accadendo nel mondo universitario, nello specifico a Siena, per quello che conosci, rispetto all'argomento dell'Artificial Intelligence? So che recentemente avete istituito anche un master universitario, post-universitario, lì in università. C'è attenzione nei confronti della tematica da parte degli studenti che si sono magari appena laureati? Sì, abbiamo deciso, come altre università a giro per il mondo, di andare a livello master verso dei corsi che abbiano l'intelligenza artificiale come aspetto baricentrico. Qualcosa che sembra ci pare in linea con quello che sono le richieste di molte aziende in Italia, in Europa, nel mondo e quindi abbiamo risposto semplicemente a un'esigenza che credo ci sia. Siena è nato questo master, come sapete è un po' il termine che si usa tipicamente in inglese per riferire, che è quella che in italiano è la laurea magistrale, una laurea magistrale nell'area dell'intelligenza artificiale e automazione e questa è una laurea appunto rivolta a studenti che naturalmente vogliono andare a fondo su aspetti di Artificial Intelligence, quindi proprio con l'idea che un pochino riguarda la progettazione, la concezione di macchine, come prospettare il futuro, come diceva Allan Kaye con l'idea di contribuire a generarlo il futuro più che di subirlo e verosimilmente c'è bisogno di persone che dovranno contribuire a crearlo il futuro. Abbiamo da tanti anni stabilito un laboratorio piuttosto robusto di Artificial Intelligence e Machine Learning che quindi interagisce con questo corso di studio a livello master e anche programmi di dottorato dove appunto c'è la formazione più avanzata. Ecco sì, questo è un movimento che in una piccola città come Siena però è veramente centrale adesso perché siamo usciti adesso anche dalle scuole di ingegneria nella nostra università e proprio recentemente è stata istituita una sorta di federazione di laboratori che si aggregano sotto l'egida dell'intelligenza artificiale che spaziano dal mondo dell'engineering, quindi questo mondo molto tecnico e della progettazione del software fino però ad andare al mondo dell'economia, della medicina e delle scienze sociali e uno potrebbe pensare anche al lato quello più opposto quello che sembrerebbe diametralmente opposto come quello delle scienze giuridiche ma poi quando uno in realtà approfondisce si accorge che ad esempio il mondo delle scienze giuridiche che è di sicuro non solo contaminabile ma è contaminato e verosimilmente anche le evoluzioni tecnologiche per i prossimi anni avranno bisogno di persone con grandi capacità nel mondo delle scienze giuridiche per motivi che ben facilmente si immaginano. Queste tecnologie stanno ovviamente invadendo e migliorando ma anche invadendo il nostro mondo e chiaramente devono essere opportunamente regolate avendo in testa ovviamente l'obiettivo di una società che sia rispettosa degli uomini prima di tutto e non solo di alcuni uomini ma rispettosa degli uomini allora è ben chiaro come occorra uscire da un contesto in cui la tecnologia ha soltanto una componente baricentrica rispetto all'engineering e a chi la produce ma serve che a livello sociale ci sia una comprensione a tutto tondo avendo in testa che non dovrebbe auspicabilmente essere il privilegio di pochi ma dovrebbe servire alla società e questo è un bel problema. E' vero. Anche riguardo la formazione, quando io prima ho parlato di questo sforzo che abbiamo fatto di scrivere questo libricino cosa che normalmente non è tipico dell'attività che conduco, che molti colleghi come me conducono però ho sentito anche un pochino di responsabilità di far sì che il cittadino curioso si renda conto che non è che si tratta, quando si invocano questi termini, c'è un velo e allora quello ti oscura rispetto a tutto il resto no, insomma è uno stimolo a toglierlo, a incuriosirsi e a fare domande. E' quello che dice molto interessante. Molto bello perché tra l'altro, allora io mentre parlavi mi sono costruito, sono fatto così, mi costruisco le immagini nella mia mente e ho visto tutta questa gente che lavora in maniera allacremente all'interno dei laboratori di ricerca magari su discipline diverse che tra di loro si parlano, questa è veramente un'immagine bellissima perché la cosa che succede spesso e che abbiamo già riportato insieme in altre occasioni, Marco è che in gruppi diversi, in giro per il mondo, si fa ricerca magari sulla stessa attività o hai bisogno di un pezzo di ricerca fatta da qualcun altro e riparti da capo. Si riparte da capo a fare ricerca ogni volta seppur qualcosa è stata già ricercata e magari si è già trovato una soluzione. Questo è un ritardo che ci portiamo indietro sui tempi e poi a me piace proprio immaginare questa azienda di ricerca perché l'università alla fine è un'azienda che produce intelligenze che vanno a finire nelle aziende, Pasquale. Cioè nelle aziende italiane che hanno bisogno, speriamo italiane, che hanno bisogno di questa intelligenza prevalentemente nel tuo caso, Marco, per sviluppare gli algoritmi, per essere proprio praticamente capaci di farli. Io mi sento un po' dalla parte degli universitari e mi chiedo, visto e considerato, sono pienamente d'accordo con te, Marco, sull'ambito, come dire, trasversale di questa materia. Non è più l'informatico che deve guardare al master in intelligenza artificiale perché ormai, anche come giustamente sottolinei, un aspetto giuridico che può essere totalmente lontano ha comunque una... Un perneato. Esatto. Allora, faccio un po' la domanda da universitario. Perché dovrei partecipare a questo master se oggi magari il mio percorso formativo va comunque in una direzione abbastanza verticale? Ho fatto economia, continuo con un master in economia. Ho fatto, non so, medicina, biologia e continuo con un master magari in quella direzione. Ecco, io la risposta ce l'ho perché abbiamo visto in due anni come le applicazioni di intelligenza artificiale stanno praticamente ovunque, dall'agricoltura a chissà quante altre. Proviamo magari ad aiutare chi oggi si sta ponendo questa domanda. e lì che deve scegliere un master e magari ha già una scelta quasi fatta su continuare un percorso in quella direzione e poi c'è l'intelligenza artificiale. Sì, va, allora, certamente è proprio vero quello che dici. C'è una certa attitudine, soprattutto in Italia, a considerare la laurea magistrale e poi magari successivamente il dottorato di ricerca, i pochi insomma che arrivano purtroppo al dottorato di ricerca, invece penso ci sarebbe tanto bisogno anche da questo punto di vista. Però c'è questa tendenza che tu indichi, ovvero quella di inserirsi in un mondo e poi rimanere sempre coerente, il che in parte è molto positivo. Però effettivamente talvolta accade che, forse non solo talvolta, soprattutto negli ultimi anni, questa contaminazione fra le discipline è sempre più auspicabile. E forse mi offre anche l'occasione di approfondire un punto che io credo sia importante e cioè c'è forse in molte persone, anche se gli studenti e i giovani si stanno rendendo conto che il mondo cambia, ma c'è in molti questa idea che appunto le persone si differenziano per che cosa hanno studiato è come se quello fosse una tappa che a quel punto poi condiziona tutto. E in gran parte è così, ma quello che sta accadendo negli ultimi anni è che è terminata la fase in cui le persone che operano presso un'azienda o comunque anche se non operano presso un'azienda, insomma fanno qualunque attività insomma nel professionale e che sfruttano soltanto la laurea. La laurea è certamente un punto di partenza o un diploma, è un punto di partenza. In realtà la vera novità è che c'è un meccanismo di apprendimento continuo in corso, certamente favorito anche dalle nuove discipline, ma è la vera novità e questo facilita anche certe transizioni, per esempio da un corso all'altro. Il fatto di venire a studiare Artificial Intelligence da noi è certamente anche per chi viene da settori un po' diversi, è un modo per avvicinarsi a un mondo che cambia. E forse più che in passato l'università si trova la sfida di aprire le menti più che di insegnare delle cose che poi sono esattamente quelle che servono nel mondo del lavoro, perché non è raggiungibile quell'obiettivo. È così sofisticata l'esigenza delle aziende, l'esigenza professionale del mondo odierno, che in realtà serve semmai avere l'abilità di acquisire velocemente, di imparare velocemente. Quelle cose che sono le nostre sfide anche con le macchine, come fare a far sì che le macchine apprendano velocemente, non è tanto una questione di quello che sai adesso, ma quello che potenzialmente davvero puoi imparare e come ti puoi esprimere nel mondo delle aziende. Molto interessante questo. Io volevo un attimino portarti anche Marco invece sull'attività di formazione che le business school permettono oggi di avere sul mercato, perché insomma non tutti hanno una laurea o comunque chi ha una laurea non specialistica sull'ingegneria magari ha voglia di entrare nel mondo del lavoro e coglie l'opportunità di formazione sull'intelligenza artificiale magari con un percorso molto più breve che gli dia la possibilità di entrare subito nel mondo del lavoro. E di questo volevo parlare anche del master in AI che organizza Ateneo e Impresa e che partirà a fine gennaio su cui so che ti è stato assegnato anche il ruolo all'interno del comitato scientifico della business school. Ecco, senza parlare per il momento del master nello specifico in questione, ma come vedi in questo momento l'organizzazione delle business school in generale in Italia? Sono pronte a fornire secondo te una formazione non specialistica ma magari molto verticale su alcuni argomenti delle AI? Ma ecco, francamente devo dire che sono piuttosto impreparato a rispondere se saranno davvero adatte. Io so che c'è una grande esigenza di questo. Cioè trovo che proprio rispetto a quello che dicevo prima c'è bisogno sia di consapevolezza anche proprio come cittadini e questo è addirittura ancora prima il livello professionale. Come prima accennavo c'è bisogno da parte dei cittadini indipendentemente dal lavoro che svolgono di avere una loro interpretazione di questo tipo di mondo propria, personale, non digerita da qualcuno e confezionata. E io credo che in realtà una persona con un po' di pazienza e di culto della curiosità indipendentemente da che cosa ha studiato abbia assolutamente la possibilità di conquistare l'essenza quello che poi serve veramente a condizionare a capire come poi si evolve il mondo. Quando si entra a livello professionale allora il tutto è molto più complesso e articolato perché chiaramente le esigenze sono multiformi ci sono diverse professioni. Mi pare di poter dire però che c'è una tale esigenza di persone con questo tipo di formazione che contributi in questa direzione proprio anche con scuole tipo quelle che tu indicavi certamente sono auspicabili. Tra l'altro ci sono molte possibilità per persone che vogliono eventualmente imparare proprio perché come prima accennavo si va verso un periodo in cui non c'è un momento definitivo in cui sai di sapere se fa un momento rispetto alla tua professione forse serve davvero stabilire questo equilibrio questo meccanismo per cui uno appunto si incuriosisce, impara e poi lo mette a frutto nella professione e certo questo tipo di contributi di scuole in questa direzione è importante tra l'altro anche le università da questo punto di vista talvolta possono essere di aiuto molti non sanno per esempio che ci sono dei corsi che possono essere fruiti all'università, corsi singoli senza bisogno di una iscrizione a un corso di studio quindi uno può prendersi un corso perché è il corso che gli interessa e non essere interessato alla laurea adesso forse mi viene proprio in mente a proposito di questo una cosa che può essere insomma come dire proprio estrema probabilmente per chi conosce la storia di Steve Jobs saprà che Steve Jobs a un certo punto lascia l'università dice non riuscivo a capire il valore che ci sarebbe stata in questa formazione con i miei genitori che stavano spendendo un sacco di soldi e quindi ho lasciato l'università poi a un certo punto però scopre questo corso di calligrafia all'università che sostanzialmente poi dice in questa sua comunicazione molto carismatica agli studenti di Stanford dice loro beh se non avessi preso quel corso non avrei imparato queste straordinarie meccaniche di stile che hanno condizionato la scrittura proporzionale che in quegli anni non c'era e hanno lanciato Apple e poi fa la storia qualcosa simpatica e dice poi anche Windows ci ha seguito e poi hanno fatto un'azienda da mille miliardi di valore va bene questa è un'altra storia questo però è per dire che per esempio in quel caso effettivamente c'era l'interesse ad approfondire qualcosa effettivamente non c'è soprattutto per persone che sono già inserite in un certo profilo professionale e che non hanno la possibilità di iscriversi ad un corso di laurea effettivamente sia queste scuole o addirittura certi corsi precisi possono essere un'opportunità è qualcosa di utile sì diciamo che non necessariamente è necessario è necessario ma non sufficiente insomma prendere una laurea completa potrebbe anche non essere necessario ma sì io penso che ormai dipende proprio dalle attitudini che una persona ha rispetto a quello che vuole fare non è assolutamente fondamentale io ho un'altra domanda forse un pelino provocatoria però prima voglio indicare a tutte le persone che sono online o quelle che guarderanno questa diretta qui sotto sta passando un messaggio quindi se volete maggiori informazioni su questo master piuttosto che borse di studio o iscrivervi all'open day c'è un link qui sotto quindi potete andare direttamente lì la domanda Italia-estero perché c'è sempre poi chi può e dice ok master in Italia ok la formazione in Italia però magari ho la possibilità come siamo messi? siamo messi meglio siamo messi un pelino indietro un pelino avanti è una materia sul quale si può contare in Italia diciamo la formazione siamo numeri uno puoi farlo qui perché sull'EI o numeri uno o comunque siamo tra i top quindi non c'è assoluta esigenza di andare fuori in Canada per esempio ma è una domanda che è interessante perché l'impressione che ho almeno l'impressione forse sarà polarizzata ma ho l'impressione che sia ci sia poca conoscenza di quello che concretamente in queste discipline c'è in paesi come il nostro o in altri paesi europei quello che posso dire però mi viene proprio naturale da dire che certamente negli ultimi anni la ricerca in Italia è andata bene ma rispetto a come magari andava dieci anni fa o vent'anni fa ha perso qualcosa forse anche perché non è neanche ovviamente una questione di colore politico ma tutte le volte si coglie l'occasione per ridire le stesse cose e i governi costantemente perseverano nel loro stato di mancanza di finanziamento alle attività più importanti per lo sviluppo dei paesi e in particolare del nostro quindi non c'è dubbio che negli ultimi dieci vent'anni abbiamo visto una progressiva riduzione dei finanziamenti e soprattutto quello che è accaduto è che molti giovani come tutti sanno di altissimo livello ovviamente trovano delle opportunità straordinarie in altri paesi europei e anche in altre parti del mondo e quindi c'è un trend per cui un background universitario che a mio modesto avviso è di alto livello in Italia in Europa ma realmente di alto livello e questo a dire il vero ci sono insomma dei parametri che uno può utilizzare non è tanto una questione di perché insomma si fa sempre bene immagino che chi ascolta e dice ah sì beh tu sei parte di quel tipo di gruppo e quindi non puoi che dire che il livello è alto però ci sono dei dati oggettivi perché la ricerca scientifica è terribile da un certo punto di vista ciascuno di noi circola con una maglietta con il numero delle citazioni con le pubblicazioni importanti quindi non è come in case in cui ti puoi nascondere non ti puoi proprio nascondere e quindi con il pro e contro di tutto questo ma certamente un vantaggio è che mostra che l'Italia dal punto di vista della ricerca nel settore dell'intelligenza artificiale ha delle tradizioni molto importanti c'è un'associazione scientifica sviluppata dalla fine degli anni 80 ce ne sono nate altre recentemente il Cini che è questo consorzio di università per l'informatica ha creato un laboratorio con oramai conta mille ricercatori ed il livello è molto alto da questo punto di vista però adesso ci sono due problemi che menziono problema numero uno il livello è alto ci sono tradizioni alte ma c'è la gente che oramai inizia ad avere la mia età e questo è un problema e di quarantenni non ce ne sono tanti ce ne sono pochi e i trentenni con i appena guadagnato il PhD e nel massimo delle loro opportunità evidentemente trovano delle opportunità straordinarie da altre parti allora è evidente che se non si per quanto riguarda le aziende le aziende non cominciano a rendersi conto che c'è un valore straordinario che si perdono e poi si scimmiotta le IAI non si entra nel mezzo e mi permetto solo di aggiungere una cosa a proposito di questo aspetto come dire provo ad invadere naturalmente in punta di piedi ma un pochino lo devo invadere il terreno delle imprese delle loro scelte strategiche e le scelte strategiche dicono nel mondo che negli ultimi 20-30 anni i risparmi del pianeta sono andati a localizzarsi sull'information e communication technology le grandi aziende di adesso assorbono dal punto di vista dei finanziamenti la grande quantità di finanziamenti ci sono delle aziende che l'uomo della strada magari giustamente manco conosce mi può venire in mente Oracle che hanno una capitalizzazione che rasenta tutte le aziende di piazza affari e non ho citato Apple o Google perché quello è nettamente superiore a quello che tutte le aziende di piazza affari capitalizza allora qualcuno gli dovrebbe pur venire qualche dubbio se per caso qui dietro c'è davvero se non sia il nuovo oro nero questo qua è il nuovo petrolio evidentemente solo che noi non lo stiamo scoprendo e quello che è importante aver chiaro è che la formazione a livello universitario in Europa in Italia ci sta ci sta ancora ma se la politica continua ad essere quella che le posizioni all'università sono limitate vi dico subito io ho partecipato sono stato membro passato della commissione ministeriale per la selezione dei giovani professori italiani e ne conosco tantissimi ne ho esaminato un migliaio e ci sono nelle nostre università ma molti se ne sono andati via perché non abbiamo offerto loro posizioni e naturalmente offrono posizioni in molti paesi europei molto migliori e con livello più basso quindi una cosa da sapere è che i nostri professori oggi per esempio in questi settori non voglio fare considerazioni generali ma siccome l'ho visto essendo stato in prima linea con la selezione dei professori i nostri professori oggi sono di livello alto nelle nostre università cioè il professore olandese o il professore belga tipicamente lo prendono prima o in Francia in Francia ci sono persone giovani trentenni che in Italia manco se lo sognerebbero di diventare professori ricercatori ma ha ragione la Francia non è che abbia ragione noi ha ragione la Francia il grande problema è che quindi sia nel mondo della ricerca che poi anche per quanto riguarda le imprese le persone di altissimo livello se ne vanno per fortuna ne rimangono anche tante da noi ma tu sei rimasto insomma seppur potevi andare in Canada il giorno dopo che ti sei specializzato a dire il vero io credo che quando io avevo l'età di giovani di oggi la sensazione era molto migliore era molto migliore io ho trascorso un periodo in Canada negli Stati Uniti come tanti giovani in quegli anni però poi in Italia effettivamente c'erano le opportunità di lavorare all'università e il mondo delle aziende era molto più recettivo dal punto di vista della tecnologia adesso se posso appunto di nuovo mettere un po' i piedi nel piatto forse le aziende avrebbero bisogno umilmente di imparare un pochino e imparare semplicemente per fare business perché dicevo forse si perdono un nuovo oro nero sì è quello che tra l'altro diciamo l'obiettivo di questo master è quello di mettere insieme anche le aziende che in realtà saranno parte attiva della formazione di chi si vorrà iscrivere e questo è importante secondo me perché unisce la formazione all'azienda quindi c'è una parte nel master Marco come sai che sarà tenuta dalle persone del tuo team ma anche il professor Vincenzo Laveglia non so se è professore ma insomma è una persona che ha seguito molto il tuo percorso avrà un modulo di circa 40 ore in cui si affronterà insomma la tematica pratica del machine learning si inizierà a capire che cos'è il linguaggio di scrittura del codice in python insomma e così via ci sarà il professor anche il professor Massimo Buscema con cui guarderemo la parte delle reti neurali ma poi si passerà alle aziende IBM che racconterà la sua visione della computer vision e come funziona un weekend intero con il chief digital officer poi ci sarà un'azienda che tu conosci molto bene che nasce come spin off dell'università di Siena che è Questit con Leonardo Rigutini che avrà modo di spiegare tutta la parte dell'NLP e della NLG ma questa è la parte tecnica poi la parte importante Pasquale è quella dei verticali delle AI cioè vedere come le AI sta entrando verticalmente come sta tagliando a fette il mercato assolutamente sì per dare un senso pratico e di vicinanza alle aziende soprattutto per questo è un master che è assolutamente utile per chi ha completato il percorso universitario lo sta completando ma io voglio anche sottolineare le importanze invece di chi oggi magari un po' più in là con gli anni non dico 40 però diciamo quel livello come dire quel livello di età quel livello di età oppure facciamo così sente l'esigenza di rinfrescare un po' le sue competenze ok perché magari è passato già sono passati già degli anni dall'università il settore in cui si trova si sta evolvendo e quindi magari è un manager attento a questo trend che probabilmente lo coinvolgerà pieno di qui nei prossimi mesi anni e allora è importante formarsi con una formazione di qualità come giustamente dicevi vicino alle aziende quindi delle case history importanti ci saranno dei weekend altamente formativi dove le aziende racconteranno come l'intelligenza artificiale sta come dire modificando cambiando integrando quello che già stanno facendo diamo qualche nome ci sarà Amazon AWS ci sarà un nostro amico Antonino Raviele di Facebook Marina Gemona di Team Francesco Magro di Wine Livery la start-up che è nata o che non è nata che è esplosa durante il lockdown e che l'intelligenza artificiale ne ha veramente tanta ci sarà Nico Nuzzi di Elizeta Davide Bottalico di Takeda Vedrai e così via Vedrai nel senso che l'azienda si chiama Vedrai insomma dei nomi importanti e la cosa che ci fa stare sereni è che ci sei anche te come componente del comitato scientifico insomma a monitorare un po' tutta l'attività di formazione so che ci sono anche delle borse di studio tra l'altro da parte delle aziende come dicevamo poc'anzi il link è qui sotto per l'open day e le borse di studio Marco sei una garanzia di qualità io lo dissi a Giacinto quando lui mi ha raccontato insomma il tuo come dire la tua conferma quindi sicuramente sarà un master fighissimo dai prendiamo qualche domanda perché è arrivata qualche considerazione anche salutiamo Claudio Ippolito da LinkedIn e dice lui è un ex avvocato prestato impegnato nel digitale e nel mio vecchio ambito di lavoro ci sarebbero enormi spazi solo se si riuscisse a creare percorsi interdisciplinari avvocato beh certo insomma il passaggio di prima ma allora è una domanda interessante chiaramente siamo agli albori però quello che posso dire è che per esempio si sta esplorando nel nostro Ateneo all'Università di Siena noi appunto proprio con i colleghi di giurisprudenza anche se in una maniera assolutamente preliminare stiamo proprio esplorando collaborazioni tra il mondo della computer science e dell'artificial intelligence e il mondo delle scienze giuridiche perché credo sia davvero molto evidente quanto è cruciale in questo periodo la contaminazione proprio anche per le aziende di informatica fatto solo un esempio per capire quanto è davvero importante questo tipo di ibridazione nel nostro laboratorio in collaborazione insomma con un po' di altre persone stiamo studiando problemi relativi ai dati clinici alla possibilità di mettere a disposizione dati clinici per il miglioramento della medicina per far sì di dare servizi migliori quindi algoritmi migliori e così via naturalmente l'accesso ai dati clinici è un processo molto sofisticato che giustamente ha bisogno di regolamentazioni e del rispetto di una serie di norme che evidentemente non possono essere base soprattutto in continenti come il nostro in Europa dove c'è la massima forse anche giusta e legittima attenzione alla sensibilità dei dati allora ogni soluzione nuova di grande valore magari per la medicina indubbiamente deve trovare una sua consistenza e compatibilità con le norme dei paesi dove si implementa e quindi ecco qui si ravvisa davvero come le soluzioni tecnologiche in realtà oramai ci stiamo affacciando ad un'era in cui non possono agire ad anello aperto quando riguardano l'informazione e la criticità e qui è dove effettivamente questa interdisciplinarità e la sensibilità di persone che vengono da un background di giurisprudenza e che hanno l'umiltà e poi la capacità di capire l'essenza e che naturalmente si possono disinteressare tranquillamente di aspetti diciamo squisitamente tecnici ma che hanno magari l'abilità di astrarre e cogliere punti essenziali così poi da procedere con il loro schema inferenziale con le loro procedure una volta che hanno con la loro astrazione formalizzato di che si parla e questo però questo processo di astrazione richiede che con umiltà uno inizi a discutere a parlare a capire e soprattutto lo sviluppo di un linguaggio comune questo è il grande problema perché talvolta appunto proprio c'è un problema di ambiguità linguistica ma è una questione di cultura e di pazienza di certo io ho apprezzato per esempio moltissimo voglio dire nel nostro ateneo una certa sorpresa nel vedere il grande interesse che c'è stato da questo punto di vista sull'interdisciplinarità e l'apertura dei laboratori ne abbiamo aperti una ventina di laboratori che in qualche modo hanno applicazioni che afferiscono l'artificial intelligence e ho notato veramente questa curiosità e questo interesse a discutere perché ci sono contesti nella vita reale che insomma la tecnologia deve considerare bene ottimo e allora Pasquale che bella chiacchierata anche questa volta Marco una chiacchierata superior la definirei insomma lasciamo a voi le considerazioni insomma della nostra community è il momento insomma che vi stiamo fornendo la possibilità di poter immaginare il vostro futuro all'interno di questo di questo mercato di questa tecnologia che sta davvero entrando dappertutto se avete voglia di scoprire questo master in basso qui avete il link a cui magari potete scrivervi per l'open day noi Marco ci vediamo sicuramente presto online per altre iniziative so che sei molto preso e impegnato però sai che ogni tanto ti arriva un messaggino da parte mia che ti invita in qualcosa mi aspettano gli studenti nel pomeriggio e allora buona lezione bocca al lupo agli studenti buona lezione ci vediamo presto online ciao ciao